Di Federico De Roberto, i vicere, voce di Lorenzo Pieri, libro primo, capitolo ottavo, prima parte. In piedi, con le braccia allevate, rosso come un pomodoro, Don Blasco pareva volesse mangiarsi vivi i suoi contraddittori. E questo si chiama vincere, eh? Con l'aiuto dei più grossi. Perché hanno chiamato aiuto allora? Perché non si sono battuti da soli se gli bastava l'animo? E questa l'ha chiamata vittoria, in due contro uno. No, signore, protestò padre Rocca, erano ventimila di meno, centosessantamila austriaci contro centoquarantamila alleati, soggiunse padre di Lenna. E i piemontesi si sono battuti da soli, affermò padre Grazzeri. Come? Dove? Quando? Urlò Don Blasco. Che diavolo mandate? Leggete i giornali se non sapete, fecero gli altri a coro. Allora egli impallidì come per un'ingiuria mortale. Leggere i giornali, leggere i giornali, leggere i vostri giornali. Balbettava, pareva cercasse le parole. Ma dei vostri giornali io mi netto il fondamento. Ah no, non volete capire? Me ne netto il fondamento, così! E fece il gesto. Il fratello Portinaio mise il capo dietro il muro della scala. Dalla terrazza affacciossi padre Pedantoni per guardare giù nel portico dove s'accendeva la lite. Questo non si chiama a rispondere. A voi dunque chi dà le notizie? Avete un servizio di informazioni particolari se non leggete i giornali. Così, continuava a gestire Don Blasco fuori della grazia di Dio. A me parlate della vostra carta sporca. A me che vi farei legare tutti quanti, voi e chi li introduce qui dentro. Andate a denunziarci, ne sareste capace. Farei il mio dovere. Fareste la spia. A me. Padre Massei, che se la godeva seduto sopra un sedile, esclamò ad un tratto, vedendo il gesto con cui Don Blasco sfibbiava la sua cintola di cuoio. Ssss, viene l'abate. Ma Don Blasco tonò. Meni in fondo dell'abate del priore del capitolo. Avanti, chi si sente da più. A me spia, manetta di carognuoli. Vedendo che diceva sul serio, padre di Lenna gli si fece incontro, rabbuiato in viso. Allora Pedantoni fu costretto a mettersi in mezzo per dividerli. Andiamo, finitela. È questo il modo. Da un pezzo le discussioni finivano così, con le grida, gli insulti e le minacce. Don Blasco era diventato un energumeno, dopo che i liberali rizzavano la cresta per via degli avvenimenti di Lombardia, della cacciata del Granduca da Firenze, dell'agitazione che propagavasi per tutta l'Italia. Questa volta è per davvero, son suonate le ventiquattro, dicevano. Ed egli prima si scagliava contro Napoleone III, contro quel figlio di non so chi, al quale non bastava la propria tigna e veniva a grattare quella degli altri. Poi tonava che Francesco II li avrebbe costretti ad arar diritti, perché ragazzo, perché non c'è più suo padre, vi farà legare dal primo all'ultimo, la vedremo. Ma il suo più grande furore scoppiava quando i liberali, dopo aver profetato imminenti novità in Sicilia, dopo aver parlato di moti rivoluzionari già belli e pronti, gli adducevano in prova il ritorno di suo fratello, del duca di Oragua, da Palermo. Quello lì, in galera, legato mani e piedi, quell'imbecille, pazzo, brigante e traditore. Poi, ridendo di se stesso, lo vituperava altrimenti. Lui pericoloso, quel pezzo di coniglio, lui congiurare. È tornato per la squacquerella che ha addosso. Palermo è buona per bagordarvi, ma in tempo di trambusti. È meglio il proprio paese, tapparsi in casa propria, ficcarsi dentro un forno. Se i sanculotti sono come lui, Francesco regnerà altri cent'anni. Egli ripeteva quei discorsi fuori del convento, dinnanzi agli estranei. Dalla sigaraia, specialmente, dove andava tutti i giorni uscendo dal refettorio. Donna Lucia, allora canonica, serrava la bottega e si metteva alla finestra per vederlo uscire dal portone del convento e infilare quello del palazzotto. Allora gli andava incontro, fino a mezza scala, con le figlie e il marito. Le ragazze, che adesso avevano da dieci a dodici anni, erano tale quale Don Blasco, grasse e grosse come mezze botti. E gli baciavano la mano e gli davano del vostra eccellenza al pari di Garino, che si sbracciava per servirlo, per avanzargli la poltrona più comoda ed offrirgli i biscotti e il rosoglio regalati dal monaco a spese di San Nicola. Quella era la visita pubblica che Don Blasco faceva all'amica, perché poi ce n'era una seconda, quando Garino portava spasso le ragazze e i due restavano soli. Certe volte ce n'era una terza nella tabaccheria. Oltre che il tabaccaio, Garino faceva caffettiere e teneva due tavolini con sei chicchere per ciascuno, ad uso degli avventori, i quali erano la più parte spie e sbirri e sorci di polizia, già che egli esercitava una terza professione, quella dell'orecchiante. Così, in mezzo a quel pubblico di fedeli, Don Blasco si nettava la bocca contro i sanculotti in generale e il fratello in particolare, e apprendeva notizie di prima mano intorno ai movimenti dei traditori. Veramente, Garino protestava un gran rispetto per il duca Doragua, zio del principe di Francalanza, appartenente ad una delle prime famiglie del regno, e a sentire i vituperi di Don Blasco, scrollava un poco il capo, ma voltando pagina, sua paternità aveva poi tutti i torti. Il duca faceva male a frequentare troppo Don Lorenzo Giulente, il quale era un liberale arrabbiato, naturalmente non essendo signore, e per mezzo del console inglese, la polizia sapeva ogni cosa, faceva venire giornali, proclami ed altra roba proibita. A Don Lorenzo, anzi, avevano fatto una visita domiciliare, ma dal duca non andavano, per il rispetto dovuto alla famiglia Uzzeda. Questo, appunto, Don Blasco non poteva soffrire, che egli godesse dell'impunità, che si parlasse di lui come ed un capo rivoluzionario, senza che corresse rischi di sorta. Voleva che lo trattassero come gli altri, che lo legassero più stretto degli altri. Sono tutti cani arrabbiati, ci vuole il bastone, ci vuole la museruola. Garino scrollava il capo. L'intendente Fitalia non avrebbe potuto permettere che si molestasse il duca Doragua, finché, ben inteso, egli non si arrischiava troppo, ma questo era certo e sicuro, che un gran signore come lui aveva tutto da perdere e niente da guadagnare, mettendosi coi malpensanti e gli arruffa popolo. Il signor intendente gliel'aveva detto a faccia a faccia. Allora, udendo che suo fratello andava dalla rappresentante del governo, Don Blasco sfogava a un altro modo. «Volpone, camaleonte, giubba rivolta! Come possono fidarsene? È del partito di chi vince! Li gioca tutti! Tradirebbe suo padre che lo creò!» E andando via dalla sigaraia, ripeteva quei discorsi in pubblico, nella farmacia di Timpa, che era il quartier generale dei fedeli, mentre in quella di Cardarella si davan convegno i rivoluzionari. Se qualcuno, scandalizzato dalla violenza del monaco, gli faceva osservare che non stava bene parlare in tal modo agli estranei del proprio fratello, «Fratello!» protestava egli, «Io non ho fratelli! Non ho parenti! Non ho nessuno! Com'ho da dirvelo!» Si dava al diavolo perché niente andava a modo suo a palazzo. L'anno innanzi, al momento della scadenza del termine stabilito dalla principessa per il pagamento alle figlie, Chiara e Lucrezia non erano andate d'accordo. Il marchese, biasimando l'amore della ragazza per Giulente, s'era riavvicinato al principe, il quale gli aveva fatto la corte trattandolo con le molle d'oro per propiziarselo. Ferdinando, intento a mettere insieme un museo di storia naturale alle ghiande, non s'era neppure informato di quel che avveniva. Così non solamente i legatari non avevano chiesto i conti, ma il principe, adducendo la mancanza di quattrini, aveva ottenuto dal marchese di poter ritardare il pagamento fino all'altranno. La seconda scadenza era arrivata e Giacomo non pagava ancora, scusandosi con le inquietudini pubbliche, col ristagno degli affari, con la scarsità del raccolto e l'impossibilità di venderlo. E Don Blasco non si dava pace, udendo che i nipoti, dimenticate le loro ragioni, accettavano perfino i continui ritardi, i pretesti furbeschi del principe. Quelle bestie di Federico e di sua moglie, specialmente, non davano più retta a nessuno, al settimo cielo per la speranza di un figliuolo, come se dalla pancia di Chiara dovesse venire fuori il Messia. E quel babbeo di Ferdinando riduceva il giardino un pestilente carnaio, preso a un tratto dalla smania di imbalsamare animali, senza accorgersi che il più animale di tutti era lui stesso. Quell'altra sciagurata di Lucrezia, poi, viveva nelle nuvole più stravagante di prima e impallidiva quando nominavasi Giulente, lo sbarbatello petulante che anche lui discorreva di costituzione e di libertà. Finalmente c'era la questione impegnata tra Raimondo, che non voleva muoversi, e sua moglie, che voleva andar via. In odio all'intrusa, Don Blasco si schierava a favore del nipote abborrito. Partire, per andar dove? A Firenze c'è il terremoto. Questi non son tempi da lasciare il proprio paese. Raimondo adduceva la stessa ragione e gli altri la ripetevano. Matilde sentiva ordirsi intorno un'altra congiura sempre più stretta. Doveva adesso contentarsi di andare e venire da Milazzo ogni mese per vedere le bambine, non potendo più reggere ai mali tratti che usavano loro quei parenti. Suo padre non l'aveva più con Raimondo. Girava per la Sicilia col pretesto degli affari, ma per lavorare invece contro il governo. E Don Blasco e Donna Ferdinanda si divertivano a predire che un giorno o l'altro l'avrebbero buttato in galera, poiché quella predizione faceva piangere l'intrusa. Il duca invece parlava molto bene del barone, si intratteneva a lungo con lui quando passava da Catania. Adesso esaltava il genio di Cavour, i trionfi della sua politica. Se gli rimproveravano le antiche critiche alla spedizione di Crimea, negava d'averne mai fatte e giudicava che la via per la quale si era posto Francesco II fosse sbagliata. L'alleanza bisognava farla col Piemonte, non con l'Austria, e concedere la Costituzione, non inquietare i patriotti, perché Napoleone aveva parlato chiaro, l'Italia doveva essere libera dall'Alpi all'Adriatico. A Don Blasco pareva di vomitare udendo queste cose, e s'arrovellava, e s'arrovellava, non potendo prendersela direttamente col fratello maggiore. Ma il giorno che arrivò la notizia della pace di Villa Franca, per poco non gli prese un accidente dall'esultanza. Lungo i corridoi di San Nicola, dinnanzi ai monaci dell'altro partito che tenevano mogi mogi la coda fra le gambe, vociava trionfante. Ah, il Gran Cavour! Ah, il Gran Piemonte! Dove sono adesso? Perché non continuano la guerra da soli? Dove è andato l'Adriatico? Dove è andato il Martirreno? E quella bestia che sputava sentenze, empiendosi la bocca di Napoleone? Napoleone aveva confidato proprio a lui quel che voleva fare. Credevano d'esserselo posto in tasca, Napoleone. O non l'avevate con lui perché non si grattava la sua tigna? Come e quando? So molto io! La Baldoria è finita! Ma che re, Francesco II! Ma che re, degno figlio di suo padre! Se avessero fatto lui re, non avrebbe messo più boria, non avrebbe guardato la gente da tant'alto. E si sgolava anche a palazzo, vedendo che il fratello scrollava il capo, udendogli sentenziare che l'ultima parola non era detta. Che ultima è prima! Il Gran Cavour! Ha fatto fagotto! I principi legittimi tornano tutti quanti! L'avete schiacciata male! Non volete capirlo! Ogni giorno si informava se il duca aveva ordinato che gli si facessero le valigie. Quel fratello gli pesava come un sasso sullo stomaco. Non vedeva l'ora che ripartisse per Palermo. Quasi in città non potesse regnare pace se colui non se n'andava. Al convento insultava quelli che osavano ancora contraddirgli. Le discussioni minacciavano di finir male. Lo stesso Abate aveva dovuto pregare i padri di Lenna e Rocca di lasciarlo dire per evitare un guaio. Il priore invece non s'occupava di tutte queste cose. Nessuno sapeva in qual modo egli la pensasse. Se gli parlavano di politica, stava a udire, scrollava il capo. Rispondeva, non sono affari che mi riguardano. Date a Cesare quel che è di Cesare. Al noviziato, la lotta fra i due partiti si era attizzata. Il principino, a cui Don Blasco dava l'imbeccata, prendeva anche lui l'aria di un trionfatore. Dileggiava Giovannino Radalì, capo dei rivoluzionari, dandogli del barone senza baronia e del figlio del pazzo. Il duca Radalì, infatti, era morto in un accesso di delirio furioso. La duchessa vedova aveva quindi stabilito che Giovannino, come secondo genito, pronunziasse i voti. E questo era un altro argomento col quale con salvo schiacciava il cugino. Io andrò via e tu resterai sempre qui. Giovannino, che nonostante le diverse idee politiche gli voleva bene, sopportava un poco i suoi dileggi, ma a volte infuriava in malo modo. Il sangue gli montava alla testa, gli occhi gli s'accendevano, scagliatosi sul cugino, se lo metteva sotto, malmenandolo, finché fracarmelo accorreva con le mani in testa. Per l'amor di Dio, che modo è questo? Non potete star cati? Pensate a divertirvi. Composte le liti, i ragazzi si divertivano, infatti. I due cugini morivano dalla voglia di fumare. Giovannino aveva ottenuto da fraccola, in gran segreto, della semente di tabacco e l'aveva piantata in un angolo del giardino. Cresceva rigogliosa e presto ne avrebbero fatto sigari. Frattanto giocavano da mattina a sera, con pochi momenti di studio svogliato, con qualche ora di funzioni religiose. Per la festa di Sant'Agata, in agosto, andarono a spasso tutti i giorni. Assistettero alla processione del carro, all'oratorio cantato in piazza degli studi e con più piacere alle corse, quelle che zio Raimondo chiamava barbarie. Le facevano lungo la via del corso, tra due siepi vive di curiosi, sui quali spesso i cavalli si gettavano sparando calci ed ammaccando costole. I cavalli vincitori ripercorrevano poi la via al passo, guidati dai palafrenieri che lanciavano tratto tratto un grido ai balconi. Affacciatevi principi e baroni, che sta passando il re degli animali! E la folla, ole! Consalvo stava attento al cerimoniale spagnolesco di quelle feste. Il senato della città, nella berlina di Gala, grande quanto una casa, preceduta da mazzieri e gonfalonieri e catapani che suonavano i tamburi, andava a prendere l'intendente. il quale doveva farsi trovare sul portone. Al senatore più giovane toccava mettere il piede sulla predella in atto di scendere, ma allora il rappresentante del governo doveva avanzarsi con le braccia distese per impedirgli di toccar terra. Erano le prerogative della città. Il senato aveva avuto lunghe contese con le altre autorità circa il posto da occupare nella cattedrale durante le grandi funzioni. Per evitare liti ulteriori si era attracciata per terra una riga di marmo che nessuno poteva varcare. Finita la festa di Sant'Agata, a San Nicola novizi e fratelli prepararono quella del santo chiodo per cui ogni anno c'era grande aspettativa. Il re Martino, che la portava sempre al collo, aveva regalato quella reliquia ai monaci nel 1393. Era uno dei chiodi con un pezzetto di legno della croce sulla quale avevano suppliziato Gesù. Il 14 settembre la spera d'oro tutta gemmata dove serbavasi la sacra spoglia fu esposta all'adorazione dei fedeli, mentre l'abate, circondato da tutti i padri con la cocolla, celebrava accompagnato dal grand'organo il pontificale. Ma la vera festa fu quella della sera, quando la vasta piazza di San Nicola parve trasformata in un salone dalle tante faci accese per ogni dove, dalle tante seggiole disposte per le signore, che arrivavano in carrozza dalla Trinità e dai crociferi e venivano ad assistere alla processione. Questa usciva a suon di banda e di campane tra due fila di soldati dalla porta maestra della chiesa, che pareva tutta una fiamma. L'abate reggeva la spera, seguito da un lungo corteo, che rientrava dopo compito il giro della piazza. Allora cominciavano i giochi di fuoco, i razzi, le ruote, le fontane luminose, la gran macchina finale, che mutava quattro volte di disegno e di colori, e finiva col crepitare assordante d'un fuoco di fila, mentre centinaia di serpenti luminosi si snodavano nell'aria scura. Il principino, accanto ai suoi parenti, non aveva tempo di dar retta a tutti, facendo gli onori di casa, giacché nella piazza e in tutto il quartiere la gente era ospite dei Benedettini. Tutta la città s'era riversata lassù, le signore con gli abiti estivi che portavano l'ultima volta, segnando quella solennità alla fine della bella stagione. Donna Mara Fersa, con la nuora e i parenti di Costei venuti da Palermo, stavano dalla parte opposta degli Uzzeda. Don Mario era in campagna. Adesso appena si salutavano per l'occhio del mondo. A Donna Isabella era stato proibito di andare più in casa di Donna Ferdinanda o di altri parenti del conte. La gente, a poco a poco, aveva finito di chiacchierare su quel soggetto. Lo stesso Raimondo pareva essersi rassegnato. Non lo vedevano più correre dietro alla signora, né questa litigava più con la suocera, né satteggiava a vittima come un tempo. Quella sera aveva un abito veramente sfarzoso e tante gioie addosso che tutti gli occhi si volgevano su lei. Quando la folla cominciò a diradarsi, padre Gerbini, sempre galante, l'accompagnò alla carrozza. E come, giusto per combinazione, il cocchiere dei Fersa e quello del principe Franca Lanza avevano messo accanto i loro legni, Raimondo e il principe, nell'andar via, fecero una scappellata alle signore, alla quale risposero solo Donna Isabella e lo zio palermitano.